E io potevo... Perché facesti infuriare Odino? Per molto tempo il mio compito fu consigliare Odino, in carico nel quale eccellevo. O te la posso raccontare più tardi? O te la posso raccontare? 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 Ragazzo... guarda qui interessante a Avete messo paura a quell'alchimista? Ora sì che si ragiona Già finito? Puoi leggerla? Certo Le rune dicono morte all'interno Brok ha detto che il suo amico è un nano e porta un anello verde Cercalo se vuoi Io raccolgo oggetti utili per il viaggio Non vuoi aiutare? No Perché no? Non faccio commissioni per i nani Quello è un mangiano Se ci uccide È finita Niente valano Niente ero Niente al di là Mai più Non vuole attaccare Secondo mamma sono molto pericolosi Allora non abbassare la guaglia Vieni Che altro una goccia di sudore Atreus Seguimi Arrivo subito Allora non Non è lui. Credevo che non ti interessassi. Ho visto che non aveva l'anello. Troveremo qualcosa di utile qui. Alla prossima. 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 Alla prossima.